Benvenuti all'Agenzia Farini, vi presentiamo due camere in affitto per studenti. Ci troviamo nel cuore del quartiere Crocetta, in una zona completamente residenziale. Sono due camere matrimoniali completamente arredate. Questo è il bagno, in comune, e questa è la seconda camera, dotata di balcone. Come pertinenze esterne possiamo trovare un ampio garage che può essere usato per un deposito di biciclette. Per maggiori informazioni contattateci allo 059 45 42 27.